L'amministrazione comunale di Teramo coglie l'occasione della ricorrenza di San Sebastiano, considerato patrono degli agenti della Polizia Locale, per fare il punto sull'azione dei vigili urbani in questo ultimo anno. Un anno particolare, segnato dal Covid, è dunque impegnativo per l'intero corpo di Polizia Locale, che ha compiuto solo nel 2021 2.330 interventi di prevenzione e controllo contro la diffusione del virus, senza però abbassare la guardia sulla rilevazione di infrazioni stradali e ambientali. Nel 2021 sono stati circa 2.330 i servizi dedicati per le misure di contenimento Covid, circa 1.300 le persone controllate, i pubblici esercizi ne sono stati controllati 310, 15 sanzionate, disposte 3 chiusure, 33 le persone sanzionate per violazione della normativa anti-Covid. Sono aumentati i sinistri stradali, sono diminuiti invece i verbali dell'autovelox? Sì, sono diminuiti i verbali dell'autovelox di circa 1.000, passando da 5.000 a 4.000, ma se andiamo a vedere comunque le somme incassate dal comune rimangono le stesse. Siamo riusciti a dare il meglio dalle risorse strumentali, economiche e di personale assegnate al comando. In particolare in questi ultimi mesi del 2021, quando il centro storico della città è stato ridisegnato con nuove zone pedonali e abolizione di parcheggi, l'impegno della Polizia Locale di Teramo si è concentrato sul far rispettare le regole e non è stato facile. Come in ogni città i cambiamenti poi incontrano le esistenze, però stiamo qui anche noi con l'azione persuasiva e non repressiva della nostra Polizia Locale, anche con i nostri messaggi prima di queste iniziative, far capire che comunque la qualità urbana di una città bella come Teramo è un obiettivo al quale tutti dobbiamo perseguire, è eliminare le auto dalle piazze principali, piazza Marti e piazza Orsini, un obiettivo da raggiungere, lo stiamo raggiungendo, ma lo facciamo perché la qualità urbana significa anche qualità della vita. E tra le varie e importanti azioni svolte dalla Polizia Locale del Comune di Teramo nel 2021 c'è stato il controllo ambientale e la lotta alle discariche abusive nelle periferie. L'educazione civica passa anche attraverso un sistema di controllo, in questo caso un controllo congiunto insieme alla Teramo Ambiente, noi abbiamo puntato molto sul potenziamento dei controlli anche di Team, Team in house insieme ovviamente alla Polizia Municipale, ecco perché abbiamo fatto corsi di formazione, ma soprattutto la cura, la pulizia, il decoro della città che passa attraverso una collaborazione. Sentirsi messaggio a ciascun cittadino, principale responsabile e principale attore protagonista della qualità della vita della propria città.